Uno dei più grandi fraintendimenti sulla nutrizione, nato dalla crescente popolarità delle diete ketogeniche tra individui sani, è la convinzione che solo l'insulina sia responsabile dell'accumulo di grasso. Si pensa quindi che mantenere bassi i livelli di insulina eliminando i carboidrati sia sufficiente per non ingrassare. Ma è davvero così? Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. L'insulina è senza dubbio fondamentale nella regolazione del metabolismo. Aiuta le cellule a captare il glucosio e aminoacidi dal sangue, favorisce la sintesi e accumulo di glicogeno e promuove anche l'accumulo di grasso nelle cellule adipose. Però non è l'unico meccanismo che il corpo usa per immagazzinare energia sotto forma di grasso. Infatti entra in gioco un'altra molecola molto meno famosa dell'insulina, ma molto più infida e bastarda. La proteina stimolante è l'acilazione, ASP, Asylation Stimulating Protein. Questa proteina è prodotta dagli adipociti in risposta al consumo di grassi alimentari. Quando mangiamo un pasto ricco di grassi, questi vengono scomposti in chilomicroni, particelle ricche di trigliceridi che stimolano la produzione di questa proteina. Il suo ruolo è di promuovere l'assorbimento di trigliceridi e il loro immagazzinamento nel tessuto adiposo, anche in condizioni di bassa insulina. Questo significa che, anche seguendo una dieta povera di carboidrati come quella chetogenica, il corpo può continuare a immagazzinare grasso se l'introito energetico è più elevato rispetto al dispendio. L'ASP stimola l'assorbimento dei trigliceridi e il loro stoccaggio nel tessuto adiposo, indipendentemente dai livelli di insulina. Quindi l'idea che solo l'insulina possa indurre l'accumulo di grasso è errata. Il corpo ha più meccanismi per gestire l'energia in eccesso ed è sempre più furbo di quanto noi possiamo immaginare e hackerare. Un'altra convinzione diffusa è che mantenere bassi livelli di insulina concentrandosi sull'indice glicemico degli alimenti sia essenziale per la perdita di peso. È vero che cibi ad alto indice glicemico causano un rapido aumento della glicemia e quindi dell'insulina, ma è sempre il bilancio energetico complessivo ciò che davvero conta nel lungo termine. Mangiare alimenti a basso indice glicemico non garantisce di evitare l'accumulo di peso se l'introito energetico supera le proprie necessità. Puoi continuare a ingrassare anche con solo alimenti a basso indice glicemico se questi ti apportano più energia di quella che utilizzi. Ciò che determina l'aumento di peso è il cosiddetto surplus calorico, non necessariamente il picco di insulina. Studi su diete low carb e low fat hanno dimostrato che non esistono differenze significative nella perdita di peso se il deficit calorico è uguale. Un altro aspetto spesso trascurato è il corretto bilanciamento dei macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi. Mentre l'insulina svolge il suo ruolo primario nel metabolismo dei carboidrati, il consumo di proteine e grassi ha effetti metabolici altrettanto importanti. Le proteine per esempio stimolano il rilascio di insulina in modo significativo, ma sono raramente accusate di causare l'accumulo di grasso. Piuttosto che focalizzarci solo sull'apporto energetico dovremmo sempre considerare il corretto bilanciamento dei macronutrienti. Se vogliamo perdere o mettere su peso in maniera più efficace è salutare, in quanto il solo peso non ci dice quanto muscolo o grasso abbiamo preso o perso. Questo aspetto va personalizzato poiché ognuno di noi ha caratteristiche uniche e una storia clinica specifica. E qui la differenza la fa non solo il bilanciamento calorico, ma anche il corretto partizionamento dei macronutrienti e le loro fonti. Per una gestione efficace del peso e della composizione corporea dovremmo concentrarci, secondo me, su questi quattro punti fondamentali e che riguardano non solo la tipologia di alimenti che siano più o meno stimolanti glicemici o insulinici, ma aspetti che stanno alla base di tutto. 1. Bilancio energetico. Assicurati che il tuo apporto energetico sia in linea con i tuoi obiettivi. Un deficit moderato favorisce la perdita di peso, mentre un surplus controllato può favorire la crescita muscolare. Non fare cose drastiche o troppo eccessive. 2. Bilanciamento dei macronutrienti. Evita di eliminare interi gruppi alimentari. Opta invece per un approccio bilanciato includendo proteine di qualità, grassi prevalentemente sani e carboidrati complessi, ma anche zuccheri semplici in base alle tue necessità, senza mai demonizzarli. 3. Attività fisica regolare. Lo so, lo dico sempre questo, ma l'esercizio fisico migliora la sensibilità all'insulina e favorisce la mobilitazione e la perdita di grasso ed è il fattore che aiuta a preservare la massa muscolare e la densità ossea. Inoltre l'attività fisica aiuta nel partizionamento dei macronutrienti, indirizzandoli sempre più verso il muscolo piuttosto che verso il deposito adiposo. Anche il movimento quotidiano cosiddetto NIT, termogenesi da attività non associata all'esercizio, quindi tutto quello che facciamo nel corso della giornata in maniera fisicamente attiva è essenziale per un corretto dispendio energetico naturale, perché la specie umana non è fatta per essere sedentaria, ma per essere naturalmente attiva. E infine evitare pratiche estreme. Le diete che puntano a mantenere costantemente bassa l'insulina possono essere utili ma per altri fattori in ambito clinico, ad esempio per trattare specifiche condizioni neurologiche. Tuttavia, per le persone sane queste diete devono essere ben progettate e monitorate. Senza competenze adeguate è essenziale affidarsi a un professionista per evitare complicazioni metaboliche che pur non manifestandosi immediatamente possono risultare problematiche nel lungo periodo. Ricorda che non sono necessarie per tutti, punta su un approccio invece più sostenibile che ti dia un'educazione e che bilanci i nutrienti e controllo energetico in entrata e in uscita. Per essere più scientifici e darvi anche del materiale oggettivo su cui basare queste precisazioni, vi metto a conoscenza di questo studio molto recente. Secondo questa ricerca, i vantaggi sul controllo della glicemia attribuiti alla dieta chetogenica sarebbero principalmente il risultato della perdita di peso e non della restrizione dei carboidrati in sé. In questo studio i ricercatori hanno coinvolto 29 persone in sovrappeso o obese. Perché non 30? Questo non lo so. Dividendole in tre gruppi, ciascuno con un diverso tipo di dieta per 10 giorni. La dieta è stata progettata per il mantenimento del peso. Il primo gruppo ha seguito una dieta standard, il secondo ha seguito una dieta chetogenica e il terzo ha seguito una dieta chetogenica con un'integrazione di beta-idrossibutirato. I risultati sono stati abbastanza chiari. In assenza di perdita di peso la dieta chetogenica non ha portato miglioramenti né sulla tolleranza al glucosio né sulla sensibilità all'insulina né in altri parametri metabolici. I ricercatori hanno osservato che la sensibilità all'insulina nei muscoli, nel fegato e nel tessuto adiposo è rimasta invariata in tutti e tre i gruppi. Quindi questo studio conferma che il fattore determinante per il miglioramento del controllo glicemico è la perdita di peso e di grasso corporeo, non solo l'assenza di carboidrati dalla dieta. In conclusione, quello su cui voglio farvi riflettere è che è importante riconoscere che l'insulina non è il nemico da combattere per evitare l'accumulo di grasso. Anche con livelli di insulina bassi il corpo può comunque immagazzinare grasso attraverso meccanismi alternativi come l'ASP, la proteina bastarda. Perciò anziché concentrarci esclusivamente sull'insulina e glicemia, diamo priorità al bilancio calorico, al corretto equilibrio dei macronutrienti e uno stile di vita attivo per ottenere risultati duraturi e sostenibili. Bene figliozzi, il video termina qui. Iscriviti al canale e condividi questo video a chi pensi potrebbe essere utile. Puoi sostenermi tramite anche i super grazie che trovi qui sotto, quelli col cuoricino e se vuoi informazioni su una consulenza privata puoi scrivermi tramite i contatti che ti lascio in descrizione. Grazie mille per la visione, ci vediamo nel futuro. Un abbraccio in pura vita. Grazie mille per la visione.